Musica Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho il piacere di ospitare quest'oggi un grande campione dello sci alpino italiano, Luca D'Ali Priandini. Buonasera a tutti. Un piacere. Mancano pochissimi giorni ai mondiali di San Moritz e ti trovi qui a Livigno per attestare la neve che più o meno, visto la vicinanza delle due località, potrebbe somigliare. È così? Esattamente. Abbiamo scelto proprio Livigno per fare questa rifinitura in vista dei mondiali perché non è molto vicino a San Moritz e quindi le condizioni di neve sono pressoché simili. E quindi abbiamo deciso di venire qua e abbiamo effettuato qualche giorno di allenamento. Un mondiale che comincerà proprio mercoledì. La puntata è stata ovviamente registrata, per noi mancano pochissimi giorni. Mercoledì, data in cui tu ti cimenterai nel Super Gigante perché quest'anno, grazie alle tue buone prestazioni, grazie all'ottima stagione che stai svolgendo, il commissario tecnico ha deciso di schierarti anche in Super Gigante per te la prima volta. Esattamente, sarà sicuramente una bella esperienza. Per me è la prima volta a un campionato del mondo e in più ho l'onore di poter partecipare a due gare che oltre al Salon Gigante parteciperò anche al Super G. e niente, sono contento perché non era, diciamo, in programma quest'estate di partecipare ai campionati del mondo di Super Gigante, però ho effettuato due gare di Coppa del Mondo e sono andato due volte a punti e quindi è stato sicuramente un buon segnale. Ti senti pronto? Mi sento pronto sì, sto bene fisicamente, finalmente dopo due anni un po' tribulati, dopo l'infortunio così, già dall'estate ho iniziato a stare meglio, ho potuto sempre allenarmi con intensità e fare anche tanta qualità e quantità, diciamo, e quindi questo è sicuramente un punto importante. Ovviamente la tua gara clou sarà lo Salon Gigante, arrivi da un'ottima stagione e quindi la tua concentrazione sarà tutta rivolta su quella gara, ma senza tralasciare il Super Gigante, che servirà a quale gara per entrare nell'ambiente, per rompere il ghiaccio, per conoscere meglio la neve. Hai vellità nella Super G? Esattamente, come hai detto te, il Super Gigante servirà un po' per rompere il ghiaccio, per provare un po' la pista, come avvicinamento alla gara dello Salon Gigante, che per me resta il focus principale. Quest'anno la stagione in Gigante è andata molto bene, ho fatto quattro risultati nei dieci e due volte ho fatto un errore, altrimenti sarei stato lì di nuovo nei dieci, quindi una stagione molto buona, manca sicuramente l'apice, però più che l'apice direi mancano due manche allo stesso livello, spesso o quasi tutte le gare ho fatto la prima manche un po' così così, mentre la seconda ho sempre fatto dei buonissimi tempi. Niente, non devo inventarmi niente, so solo che se riesco a fare due manche come normalmente faccio la seconda, posso essere molto pericoloso. Assolutamente, due manche, soprattutto la seconda in grande recupero. Che cosa ti scatta in questa seconda per far paura a Grischer, Pinturo e quant'altro? Ma non so neanch'io cosa cambia dalla prima alla seconda, ci sono tanti atleti che invece magari la prima vanno molto bene mentre la seconda la subiscono, io invece la seconda riesco sempre a dare qualcosa in più, spingermi oltre diciamo, insomma non voglio arrivare in fondo e essere battuto da altri. Sicuramente mi rode un po' che la prima manche non riesco a fare altrettanto, però niente, bisogna continuare a lavorarci, provare sempre a dare il massimo e sono sicuro che prima o poi riuscirò a fare due manche. È un appendio che ti piace, quello di St. Moritz? Ma che mi piace? È difficile da dire perché fino adesso ho messo gli sci su quella pista una volta, tre anni fa, e c'era un nebbione, la neve non era un granché e quindi non ho molti ricordi. però è sicuramente un terreno interessante, una pista varia, c'è con molti dossi, tratti un po' pianeggianti e quindi sarà tutta una pista da attaccare. Adesso attualmente sono le piste che mi piacciono molto, facendo anche molta velocità, discesa e super G, sono migliorato soprattutto in gigante nei tratti pianeggianti e dove c'è da fare velocità. Parlando in questi giorni con il tecnico della Nazionale delle Velocità, Lorenzo Galli, mi ha detto che sei uno che quando il gioco si fa duro ti piace giocare duro, insomma sei uno che si cala sul ripido, sul difficile. Ma sì, sono sempre stato bravo tecnicamente, sicuramente per la velocità mi manca un po' di scorrevolezza, quella è sicuramente la mia più grande lacuna, però niente, quando anche adesso l'ultima tappa di Coppa del Mondo a Kitzbühel, sono andato a punti anche in super G e lì era molto difficile perché era buio, e ho provato a dare il massimo come sempre, sicuramente non è stato un gran risultato, però già andare a punti con un pettorale alto come il mio, sono state poche persone, cioè due o tre persone con un pettorale oltre 60. Come è uscire da quel cancelletto di Kitz quando si apre e c'è un boato da 50.000 persone che ti portano all'arrivo? Ma il boato diciamo che in partenza non c'è tanto, in fondo c'è Baldoria, c'è tanto casino, così invece in partenza regna un silenzio, se gira una mosca la senti, tutti sono concentrati e vogliono prepararsi e focalizzarsi al meglio sulla gara. Però è sempre emozionante Kitz, forse la gara regina del circuito di Coppa del Mondo? Beh sicuramente per un discesista una vittoria a Kitzbühel vale una stagione, tanti magari preferiscono vincere a Kitzbühel piuttosto che un mondiale, un'olimpiade, è sicuramente l'evento clou per un discesista, è il massimo che puoi vincere. Da parte mia averci potuto partecipare è già una bella esperienza. Questo quesito l'avevo posto anche a Phil e Paris quando erano stati ospiti qui in Vita d'Atleta, e anche loro mi hanno confermato, non baratterebbero una medaglia olimpica per la vittoria di Kitz, quindi è detto giusto. La gara del Mondiale del Gigante si svolgerà il 17 febbraio ed è un venerdì. Sei superstizioso? No, no. Non lo sapevi nemmeno che fosse venerdì? No, ieri me l'ha ricordato un amico, ma che fosse che sia venerdì 17 o un altro giorno non mi cambia niente. Anche perché per qualcuno porta bene, per qualcuno meno bene. Anche se porta male, comunque ci sono sempre tre medaglie e qualcuno le prende, quindi per qualcuno va bene sempre. Chi saranno gli uomini da battere? A San Mori sicuramente i favoriti più grandi sono Irscher e Pinturò. Io loro due li metterei a uno scalino un po' sopra gli altri, e poi secondo me c'è un gruppo grande che può giocarsi il podio. Su un pendio così anche Matthew Fevre è molto molto pericoloso, infatti è un terreno più o meno simile a Val di Zer, la prima gara, quella che abbiamo fatto sulla pista da discesa, che infatti ha vinto lui. Su quei terreni lì lui è molto molto bravo a fare velocità, a far scorrere gli sci. Però, ripeto, secondo me Irscher, Pinturò, un scalino a sapere gli altri, se Fevre è in giornata sarà molto dura e poi c'è un bel gruppo che può giocarsi il terzo posto. Tra cui te, tra cui anche un Manfred Molbe. Ma sicuramente noi italiani non andiamo da favoriti, però, come ho detto sempre, è un mondiale, è una gara a parte, è una gara di un giorno e può succedere tanto nel bene e nel male. Quindi da parte nostra può solo che girare nel bene, perché non essendo favoriti non abbiamo niente da perdere e quindi sia io che Manni che Florian e perché no anche Riccardo saremo quattro guerrieri che non abbiamo niente da perdere, possiamo solo guadagnarci. Se facciamo una bella gara c'è impaglio tanto e se si sbaglia è peccato, è un'occasione mancata, però non abbiamo perso niente. Certo, e non avete nemmeno sulle spalle quella pressione che probabilmente hanno i due campionissimi di cui abbiamo appena parlato. Quindi a livello psicologico forse voi partite più scarichi, piuttosto che appunto loro. La testa conta e come? Sì, sicuramente quello, la testa fa tanto nel nostro sport. Infatti ci sono tantissimi atleti che magari in allenamento vanno forte e forte e in gara poi si bloccano. Però, come detto, noi non abbiamo niente da perdere. Io normalmente in gara riesco a dare sempre qualcosa in più rispetto all'allenamento che dopo l'infortunio in allenamento non riesco più a spingermi al mio massimo. Però in gara riesco a sbloccarmi e quindi niente, cercherò di dare il massimo come sempre e quindi io sicuramente non mi tiro mai indietro. E noi staremo lì davanti alla televisione, magari anche a San Moritz a tifarti. Hai parlato di infortunio, ce lo ricordi? Ma nel 2014 mi sono rotto il legamento crociato e il legamento collaterale ho dovuto operarmi e quindi ho saltato tutta la stagione e poi ho detto che sono stati due anni un po' tribulati perché oltre alla stagione che ho saltato per questo infortunio al rientro e alla stagione successiva mi sono fatto male al menisco dell'altro ginocchio in più mi sono rotto la mano che ho dovuto operarmi e mi sono perforato il timpano e quindi l'anno scorso veramente quando è finita la stagione ero contento che fosse finita perché tra una e l'altra non ne potevo più. Incidenti procurati tutti in gara sugli sci? La mano e il timpano sì, sono caduto nel supergigante della Val Gardena e lì è successo quello, quindi poi dopo due giorni mi sono operato e ho perso un mese di sci praticamente e sono rientrato a febbraio e mentre il menisco è stato un infortunio di ottobre che però all'inizio non ho detto niente a nessuno perché tornando da un infortunio non volevo di nuovo andare sotto i ferri però sentivo che qualcosa al ginocchio non andava bene cioè non era uno strappo o qualcosa muscolare cioè era qualcosa dentro che non funzionava infatti a giorni andava bene, a giorni mi era proprio bloccato poi abbiamo fatto la risonanza, abbiamo visto che era quello e ho preferito non operarmi ho provato ad andare avanti tutta la stagione e ho sempre detto che se il dolore fosse stato troppo grande mi sarei fermato e avrei dovuto operare fortunatamente ce l'ho fatta a finire la stagione forse anche perché il mese di stop per la mano e il timpano mi hanno un po' aiutato però veramente è stata una stagione da dimenticare no, da dimenticare no perché comunque ho fatto anche delle belle gare però è stata una stagione tribulata è difficile sia mentalmente sia fisicamente come ci si preserva dagli infortuni? con tanta palestra, suppongo ma è difficile dire sicuramente bisogna avere anche molta fortuna però sicuramente se sei preparato bene fisicamente sicuramente puoi diminuire questo rischio di infortunio e quindi le ore e ore di allenamento in estate, autunno che passi in palestra o al campo sportivo o a correre o in bici diciamo servono e servono soprattutto per questo oltre, diciamo non è che se ti alleni fisicamente l'estate vai più forte sulle sci quindi sì, magari un po' però secondo me aiuta più per diminuire questo rischio di infortunio assolutamente abbiamo visto nelle recenti discesi di Kitz mi sembra dei virtuosismi da parte, guarda non mi ricordo bene forse una teta francese che ha atterrato dopo un salto su una gamba sola è riuscito poi a stare in piedi a salvarsi grazie appunto alla potenza che hai e per questo che dicevo che l'allenamento in palestra può servire anche per preservare il fisico Sicuramente serve è una cosa fondamentale soprattutto negli ultimi dieci anni è diventato ogni anno conta sempre di più e più forte sei meglio è sia per la prestazione fisica sia per essere più sicuro sugli sci direi proprio questo termine avere questa sicurezza A livello tecnico qual è il tuo pregio? Qual è il tuo difetto? Ma il mio pregio forse è che in gara riesco veramente a dare il 100% di me stesso e non mi nascondo mai cerco sempre di attaccare diciamo e non mi tiro mai indietro il mio difetto è forse un po' il mio pregio sono sono molto eruento molto istintivo così e quindi faccio anche tanti errori a livello psicologico ti senti uno un guerriero? a livello psicologico non non ho mai avuto dei problemi ad affrontare la gara o per altri motivi sicuramente le prime gare di Coppa del mondo non sono state facili perché è un altro è proprio un altro livello rispetto alla Coppa Europa e cambia tanto e bisogna abituarsi non è che ero agitato prima della gara o sentivo questa pressione però diciamo quando partivo dal cancelletto uscivo dal cancelletto che entravo in gara entravo come in una trance che non riuscivo più a fare quello che volevo ma scendevo era un po' il mio corpo che decideva dove andare qua e là e quindi non riuscivo mai a mettere il 100% di me stesso quindi all'inizio ho fatto un po' di fatica al primo anno diciamo c'è una mental trainer un mental coach che ti aiuta o che vi aiuta voi nazionali? no personalmente non lavoro con nessun mental trainer o psicologo in squadra sì c'è uno psicologo che più che altro che con gli atleti lavora con gli allenatori per per insegnare più che altro loro il modo per comunicare con noi assolutamente che è fondamentale sì anche secondo me penso che sia se uno non ha dei grandi problemi di pressione o che sente la gara o qualcos'altro secondo me è molto più importante che venga si faccia un lavoro con gli allenatori per comunicare perché soprattutto con quell'allenatore che magari sta in partenza e ti dà le ultime indicazioni una parola detta in un modo o nell'altro in quel momento che sei lì che parti che sei concentrato ti può cambiare il significato assolutamente infatti era la domanda che ti volevo porre adesso li vediamo questi coach alle vostre spalle che vi incitano vi gridano proprio anche quando siete già usciti dalla cancelletta che cosa vi dicono che cosa vi dicono dieci secondi prima ma quello anche dipende un po' da persona a persona infatti noi quest'anno in partenza abbiamo appunto l'allenatore responsabile Max Carca che durante l'estate abbiamo fatto un colloquio con lui personalmente ognuno singolo e ci ha chiesto un po' quello che volevamo sentire sapere e quello che lui doveva dirci nei momenti che precedono la partenza io personalmente sono un atleta che non non voglio avere troppe informazioni sulla pista diciamo se proprio c'è qualcosa di importante o o che mai un punto chiave che stanno sbagliando in tanti ok lo voglio sapere però non voglio avere tante altre informazioni che magari possono diventare un blocco poi normalmente questo è non so 3-4 minuti prima della gara che ti spiega un po' e poi quando metti gli sci e ti avvicini al cancelletto di partenza dipende anche lì un po' da persona a persona però normalmente magari c'è ti dice gli ultimi 30 l'ultimo minuto ti dà un po' di incitamento e poi magari mentre gli ultimi 30 secondi c'è un po' più silenzio diciamo ti lasciano concentrare poi urlano quando sei partito che però poche volte capita di sentirlo almeno magari anche lì cambia da atleta atleta per dirti io non lo sento perché sei entrato nella tua trans no non è più una trans diciamo sono io che decido cosa fare però quando parto sono talmente concentrato e comunque è anche uno sforzo molto importante la partenza che non sento quello che c'è intorno diciamo certo alla porta X c'è una buca indosso c'è qualcosa da evitare è facile ricordarsi oppure insomma rossa e blu rossa e blu sono tutte uguali ma almeno io faccio fatica a ricordare se ti dicono la porta 18 perché se ti dicono così tu dovresti partire dalla porta e dalla prima porta iniziare 1 2 3 e quando inizi così non è assolutamente aspetti quel momento esatto e non è assolutamente hai detto la parola giusta ti aspetti quel momento e tutto quello aspettare sono decimi e preziosi che perdi assolutamente sicuramente deve esserci un modo anche di dirtelo magari sul primo cambio di pendenza che allora sai parti ci sono 10 porte poi cambia la pendenza allora sai che lì è quel punto o due porte dopo il dosso quello ci stanno perché comunque però sicuramente non è alla ventesima porta c'è questo alla trentacinquesima c'è questo perché sarebbe un po' difficile almeno per me lo è certo da casa vi vediamo sempre ripassare mentalmente e anche mi mando la pista le porte eccetera eccetera ma ve la ricordate veramente il tracciato sì sì anche lì dipende molto da persona a persona la ricognizione come è fatta io personalmente sono uno che fa la ricognizione abbastanza veloce e magari non sto non mi ricordo precisamente ogni porta cioè mi ricordo magari ci sono quattro porte poi c'è una lunga poi c'è cinque porte poi c'è un dosso perché io faccio nella ricognizione cerco di leggere i punti più difficili della pista quindi non non mi serve almeno io non voglio ricordarmi tutto il tracciato lo so perché l'ho fatto la ricognizione l'ho visto però non non mi focalizzo su tutto il tracciato ma cerco di focalizzarmi se ci sono dei punti importanti da non sbagliare oppure da sfruttare per 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 accelerare andare meglio degli altri a due secondi dal muro di Adelboden cosa pensi ecco ci siamo a due secondi dal muro Adelboden ho pensato quest'anno ho pensato stai sull'esterno un secondo dopo ero ero sdraiato che verso la rete eh purtroppo questa è andata così lì però quando ti affacci sul muro è bello perché rallenta rallenti anche il tracciato rallenta perché lì la pista è molto stretta e entri in un muro quindi non puoi entrarci a troppa velocità e c'è sempre due tre porte che girano poi la lunga e quindi rallentando molto il tempo entri e lì senti veramente il boato della folla che che tifano è bello perché poi entri ti manca il terreno e ci sono due tre porte e poi devi cacciarti giù fino al traguarda veniamo brevemente alla tua carriera hai cominciato da piccolino a sciare sì ho iniziato da piccolo penso come tutti ho iniziato a fare le gare sei anni così sei sette anni e poi ho sempre fatto le gare da piccolo diciamo fino a fino a categoria lievi o quando sono passato giovani non sono mai stato quello che fortissimo che vinceva le gare come magari si vede che c'è uno dei ragazzi con due secondi così sempre stato lì secondo terzo quarto allievi magari se andavo veramente bene riuscivo a vincere però era sempre combattuta chi erano i tuoi avversari da giovane ma praticamente da quando avevo sette anni fino diciamo le categorie children baby cuccioli ragazzi allievi in regione erano sempre chiesa conci che erano della mia età più o meno erano quelli e poi quando siamo passati giovani però già anche dagli evi mi ricordo ci sono più o meno gli stessi che ci sono in nazionale Borsotti Cass c'era di Ronco poi c'era Julian Giacomelli che era molto bravo erano sempre quelli più o meno i nomi poi alcuni sono persi però alcuni sono andati avanti quindi poi ad una certa età verso 16-17 anni in Coppa Europa sei entrato in un circuito di Coppa Europa o no un po' più tardi a 15 anni vabbè 15 anni sono andato a 14 anni ho iniziato a frequentare la scuola Malles sportiva hai fatto ho fatto il diploma lì di 5 anni e sono entrato in squadra nazionale nel 2008 squadra giovanile ricordiamo lo sei del 90 sono del 90 quindi a 18 anni ho vinto la classifica giovani e sono entrato in squadra diciamo quando ho iniziato a fare la Coppa Europa è stato nel 2010 perché sì magari nel 2009 così ho fatto qualche tappa però ero molto molto lontano nel 2010 ho iniziato ad andare a punti nel 2011 12 ho fatto il posto fisso in Coppa Europa ho tenuto dei podi e delle vittorie e poi nel 2012 2013 ho iniziato a fare la Coppa del Mondo la tua prima gara di Coppa è stata? la mia prima gara di Coppa è stata nel 2011 l'anno che ho fatto il posto fisso in Coppa Europa già dall'estate andavo molto bene e infatti mi hanno portato a Sölden e sicuramente è stata una gara senza non avevo esperienza ero giovane senza aspettative era un po' per fare esperienza che mi è servita appunto anche nelle gare Coppa Europa seguenti ok siamo in chiusura Luca un grossissimo bocca al lupo e ti faremo sicuramente nazionali ti faremo Luca De Liffrandini grazie mille grazie mille a voi dell'invito grazie ancora è tutto per questa sera grazie per la cortesia attenzione e ci vediamo mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti